Ehi, salve! Guardate che so cosa state pensando! Caspiterina, un gatto nero! Sicuramente mi porterà sfortuna! Si vede quanto poco ne sapete di fortuna! Bene, vi spiego una cosa. La fortuna cambia da paese a paese. In Scozia, per esempio, si ritiene che un gatto nero come me porti molta fortuna. Ricordate, bimbinù, cercate di farlo a casa. Mi chiamo Bob, a proposito. E questa è la terra della fortuna. Buongiorno, Jerry! Noi lavoriamo dietro le quinte per creare piccoli momenti fortunati e sfortunati di cui è composta la nostra vita quotidiana. Come loro! Un'intera squadra che crea la fortuna fortunella, quella che vi fa sentire come se aveste vinto un milione di dollari. Ok, magari solo 100 dollari. E poi, ovviamente, c'è l'altra squadra, che lavora la fortuna non troppo fortunella. E loro sì che adorano veramente ciò che fanno. Beh, voi umani siete belli complicati. Ed è per questo che le cose qui vanno tanto lisce, perché nessun umano ha mai messo piede in questo posto. E con un po' di fortuna non succederà mai. Dove cavolo sono? Cos'è questo? Uno scherzo? Cos'è questo? Uno scherzo? Grazie a tutti